Salve a tutti carissimi amici di YouTube. Prima di iniziare ad ascoltare questo audio, ti consiglio assolutamente di leggere l'articolo che ho creato riguardo a questo argomento. Almeno comprendi meglio di cosa andrai ad ascoltare. Ascolta l'audio con degli auricolari o delle cuffie. Siediti o sdraiati come preferisci. Chiudi gli occhi lentamente e concentra la tua attenzione sul tuo respiro. Inspira profondamente. Espira lentamente. Inspira pace, tranquillità, serenità. Espira tutte le tensioni, lo stress, il nervosismo. Inspira, espira. Espira. Adesso farò un conto regressivo da quindici a zero. Ad ogni numero che conto, ti rilasserai sempre di più. Sempre di più. Quindici. Quattordici. Tredici. Dodici. Rilassati sempre di più. Undici. Dieci. Nove. Otto. Sette. Stato di rilassi. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Zero. Pace e tranquillità dentro di te. Adesso, tutte le volte che inspiri, voglio che ripeti mentalmente. Confido nella mia intuizione. E quando espiri, ripeti mentalmente. Fuori dalla mia mente, qualcosa di nuovo sarà rivelato. Ripeti queste frasi per alcuni minuti. La risposta intuitiva può venirti in qualunque momento. O manifestarsi nel trascorrere della giornata. Ispira e ripeti. Ispira e ripeti. Confido nella mia intuizione. Ispira e ripeti. Fuori dalla mia mente, qualcosa di nuovo sarà rivelato. Ispira e ripeti. Ispira e ripeti. Ispira e ripeti. Ispira e ripeti. 우 Ispira e ripeti. Spira e ripeti. Isabella ma è risposta per? Ispira e ripeti. Ispira e ripeti. Anchemi attim burie per? Espira, fuori dalla mia mente, qualcosa di nuovo sarà rivelato. Adesso, esegui da solo questo esercizio per alcuni minuti e cerca di rilassarti sempre di più, confido nella mia intuizione, fuori dalla mia mente, qualcosa di nuovo sarà rivelato. Grazie a tutti. 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 A presto.